Oggi alcune aziende piano piano stiano realmente trainando l'economia agricola verso nuovi modelli di sostenibilità dove si va a coniugare il processo, il prodotto, la reputazione, alla costruzione di una consapevolezza maggiore. Oggi abbiamo bisogno di avere un modello produttivo sempre più performante, competitivo e i numeri dimostrano che quelle aziende che investono in tecnologia, investono in condizionalità sociale oggi hanno un vantaggio competitivo, quindi questo modello è un modello che deve crescere, la diffusione di queste informazioni porta soprattutto alla consapevolezza, la costruzione di un modello consapevole porterà poi a un rafforzamento della reputazione del prodotto italiano. Sono state premiate due aziende del mondo del vino, parlo ovviamente delle prime tre, una del mondo del biogas, questo dimostra come i grandi temi della transizione energetica dalla parte, dall'altra la transizione con una ottica e una visione a quelli sono i grandi temi dell'ambiente, il mondo del vino, in particolar modo una delle due anche con un aspetto tutto dedicato al recupero anche storico e sociale delle aree evitate, delle aree interne del paese, certamente questo va a dimensionare tre bellissime storie che vanno assolutamente riconosciute e premiate.